In questo video vediamo cosa sono i colori Pampastel. Da quando ho iniziato a disegnare ho sempre preferito metodi di pittura secchi quali matite colorate, matite pastello e pastelli morbidi. Mi piace quindi sempre provare materiali nuovi da abbinare a quelli che uso abitualmente. Uno dei prodotti che ho provato negli ultimi mesi e che ritengo veramente fantastico è questo, i Pampastel di Colorfin. Se avete già provato i colori a pastello in passato potreste essere stati scoraggiati dalla polvere che si crea durante il loro utilizzo e magari avete deciso che questo tipo di pittura non fa per voi. Ecco quindi che oltre a usare una carta adatta ai pastelli che già riducono questo problema, i Pampastel arrivano in vostro aiuto. Magari farvi cambiare idea e dare un'altra possibilità ai pastelli. I Pampastel sono dei pastelli morbidi contenuti in contenitori di plastica circolare e a differenza di tutti gli altri tipi di pastello dove usiamo principalmente le nostre mani abbiamo bisogno di alcuni strumenti per poterli applicare. Questo fa sì che per la prima volta i pastelli possono essere usati quasi come una pittura liquida. I pastelli morbidi che normalmente usiamo siamo abituati a vederli in forma di piccoli cilindri o squadrati e per fare in modo che il pigmento rimanga insieme e non si sfaldi tra le dita durante l'uso è necessario usare dei prodotti che fanno da legante. Nei Pampastel l'uso di prodotti leganti è ridotto veramente al minimo e quindi la concentrazione di pigmento risulta superiore. Questo fa sì che abbiamo dei colori davvero ricchi e vibranti che stanno facendo innamorare gli artisti che lavorano a pastello. Come dicevo per usare i Pampastel occorrono degli speciali applicatori, cosa che viene molto apprezzata da coloro che magari non amano la sensazione secca e polverosa dei pastelli quando li tengono in mano o della polvere che rimane sulla pelle dopo l'utilizzo. Questi applicatori sono disponibili in varie forme, dalle spugne grandi ovali per l'applicazione su grandi superfici, quelle squadrate o triangolari per avere linee nette o fini, ma ci sono anche questi applicatori in piccole dimensioni dotati di manici che funzionano quasi come dei pennelli o mestichini e che hanno le spugne intercambiabili di diverse forme. Per sfumare i colori possono essere usati benissimo anche in metodi più tradizionali quali sfumini di carta o le vostre dita. L'unico difetto di questi applicatori è che essendo molto morbidi se usati su carte particolarmente ruvide si consumano facilmente. Ci sono molti benefici nell'usare i Pampastel, forse quello più ovvio è la capacità di coprire ampiare velocemente, in particolar modo se li usate insieme alle matite colorate classiche che sono molto lente nell'ottenere una superficie di colore omogenea, come ad esempio il cielo di un panorama. Con i Pampastel possiamo farlo in tempi molto brevi, ma non solo. Un altro beneficio rispetto al classico pastello morbido in cilindro è che la quantità di pigmento che mettiamo sulla carta è facilmente controllabile, così si corre meno il rischio di riempire la grana della carta inibendo l'aggiunta di altri strati di colore. I Pampastel sono perfetti per creare quell'effetto fuori fuoco dello sfondo di un disegno o per l'effetto bokeh, ma anche per bloccare il colore di base prima di passare ad applicare i dettagli con le matite pastello o le matite classiche colorate. I Pampastel possono essere utilizzati in combinazioni con altri medium di pittura quali acquarelli e acrilici, con il vantaggio di non dover aspettare che si asciughino in quanto sono colori secchi. Anche se io preferisco usarli sulla carta Pastel Mat, i Pampastel possono essere utilizzati anche su altri tipi di superfici, ma tenete sempre conto che più la superficie è liscia, meno strati di colore potremo sovrapporre. I Pampastel sono molto opachi e quindi è molto più semplice applicare luci e colori chiari su sfondi scuri rispetto ad esempio le classiche matite colorate, dove di solito cerchiamo di salvaguardare il bianco della carta sin dall'inizio. Abbiamo alla disposizione una gamma da 92 colori, tra cui 6 colori metallici e 6 colori iridescenti e si possono comprare sia il colore singolo sia in diversi set di colore, come ad esempio i 5 colori base, il set da 20 colori per ritratti o il set più adatto per dipingere animali, ma esistono tantissime combinazioni di colori in set da soddisfare tutti i gusti. Per quanto guarda la resistenza alla luce, la dita produttrice usa un sistema interno da 1 a 4 stelle, dove 4 significa eccellente resistenza alla luce e la maggior parte dei colori ha un valore tra 4 e 3 stelle. Il problema è che non sono riuscito a trovare dati precisi di riferimento su cosa significhi 4 stelle in termini di anni di durata del colore. L'unica cosa che sono riuscito a trovare è che la Colorfin ha testato i pigmenti in base alla scala ASTM, ma senza dati precisi. Quindi per quanto molti artisti non hanno rilevato problemi da questo punto di vista, non metto la mano sul fuoco se devo garantire la loro resistenza alla luce. Artista avvisato. Troviamo invece tra i dati di produzione un'altra sigla ASTM, ovvero la ASTM 4236. Questa sigla indica che tutti i colori sono stati testati per verificare che non contengono sostanze tossiche o pericolose per la salute, cosa da non mai sottovalutare quando si utilizzano prodotti d'arte o anche solo prodotti scolastici per i nostri bambini. Genitori date sempre un occhio ai prodotti per precauzione prima di comprarli. Un altro dato importante a favore di questo prodotto è la loro longevità prima di dover rimpiazzare un panetto con uno nuovo. Dati del produttore affermano che la quantità di un panetto pan pastel ha circa il 40% di materiale in più rispetto a un pastello soffice comune. Nella tabella vedete le varie differenze confrontate con le più famose marche sul mercato. Parlando del prezzo di vendita possiamo dire che non sono molto economici anche se si possono trovare offerte molto vantaggione su Amazon soprattutto per il set di colore. Il panetto singolo varia dai 6,5 ai 7,5 euro. Comunque sia la brillantezza, la qualità dei pigmenti utilizzati, la loro facilità e praticità d'uso e la durata di un panetto nel tempo giustificano il prezzo. Per cui vale veramente la pena spendere qualche soldo in più per un prodotto di grande qualità. Tirando le somme i pan pastel possono essere utilizzati da soli per creare un'opera da capo a piedi oppure usati in combinazione con altre tecniche di pittura. Sono di qualità eccellente e li consiglio vivamente. Se volete vedere un'opera creata interamente con i pan pastel vi consiglio vivamente di guardare i video di Jason Morgan oppure di Lisa Cloud. Trovate dei link nella descrizione del video. Se avete trovato informazioni utili in questo video e vi è piaciuto lasciate un bel like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati quando nuovi contenuti vengono caricati su questo canale.